Buonasera, siamo a Villagerini di Colonnata, grazie per essere presenti. La terza puntata della nostra trasmissione, abbiamo qui Sergio Sarri, grande disegnatore, pittore, artista, esperto di vari argomenti, tra i quali quelli della masoneria, che comunque fanno parte naturalmente della nostra cultura, soprattutto negli ultimi tre secoli, so che ha fatto dei bellissimi interventi. Sia un libro di storia sulla storia della masoneria a Bologna, con dei documenti, sia dei libri di fumetti sulla masoneria, fumetti ironici ma anche seri. Ho fatto un piccolo dizionario massonico illustrato, dove ci sono trattate le 80 voci principali per conoscere un po' la masoneria e poi i libri di vignette sulla masoneria. Però i libri di vignette bisogna conoscere la masoneria per saperle leggere. Sono facili. Allora io so che comunque è dato modo a molte persone di avvicinarsi a capire meglio, perché naturalmente ci sono dei vari pregiudizi. Ora naturalmente bisognerebbe capire quelle che sono le differenze tra la grande loggia d'Italia e il grande oriente d'Italia, perché comunque sono impostazioni leggermente diverse. Ebbene comunque qualcuno possa far capire anche quanto è influita sulla cultura italiana, europea, occidentale, internazionale. Perché comunque grandissimi personaggi hanno fatto parte della masoneria, quindi non esiste solo la masoneria deviata, ma esiste un qualcosa di molto più costruttivo. E te comunque sei riuscito a creare questo connubio tra la tua cultura massonica e quello che è la tua capacità artistica, la tua vena artistica, con l'ironia che hai acquisito, anche con la vita particolare che hai vissuto, i tuoi grandi viaggi. Raccontaci. No, io ho iniziato, intanto io sono nato a Firenze ma ho girato mezzo Italia. Negli anni 70 ho fatto delle mostre di quadri, poi ho interrotto per una trentina d'anni perché lavoravo in banca, poi da circa 11 anni ho ripreso a fare vignette e da 5 anni quadri, perché le vignette le ho fatte circa 600 sulla masoneria, con un'edizione in spagnola e un'edizione in inglese. Quindi sono un po' stufo. Poi me le continuano a chiedere, perché quelle che piacciono di più me le chiedono, quindi devo rifarle. Immagino, ora comunque la cosa buffa è che ogni 5 minuti quando io ho contatti con Sergio, che è la nostra amicizia, è da tutte le parti d'Italia. Adesso li fanno la trasmissione a Vicenza, dopo la troviamo a Massa, poi la troviamo a Grosseto. Insomma è come il prezzemolo, vero o sbaglio? Sono abbastanza ricercato ultimamente, trasmissioni erano già registrate diverse, perché il fatto di essere l'unico a fare vignette sulla masoneria è una cosa abbastanza particolare. Mi presentano, sono stato ospite, esempio del sindaco di Grosseto in Sala Consigliare, tre anni fa. Il punto del sindaco dice che c'è Walt Disney, Ugo Pratt e Sergio Sarri, quindi sono in bella compagnia. Ah sicuramente, guarda, ma anzi ci vuoi far vedere, ora a parte che sarebbe da far capire perché c'ha il diletto, c'ha la cadenza bolognese, emiliana, quando lui è toscanissimo, vuoi dire qualcosa su questo prima di farci vedere le tue opere? A Bologna hanno diviato, sia perché ho preso un chilo all'anno, perché Bologna, io come dico sempre, la rossa, la grassa e la dotta, perché Bologna è veramente una roba inavvicinabile con mangiare. Inavvicinabile perché è tanta, diciamo. Tanto, è bella grassa proprio. Facci vedere cortesemente qualcosa delle tue opere, che noi abbiamo l'onore di poter avere. Ecco, nell'attesa, volevo dire anche questo, avevi una mostra qualche giorno fa che purtroppo è saltata a causa del periodo. Per esempio, queste qua sono delle grafiche che ho fatto per una bellissima sagra del carciofo che fanno a Rio Torto. Purtroppo è saltata, adesso li utilizzerò l'anno prossimo. Questi sono dei carciofi, questo è una scritta al vitrio, il vero interiore, terra e reliquindare, un incipietto occulto e lapidem. È una scritta alchemica, latina, ma è una vecchia. Io l'ho riprodotta, ovviamente in chiave moderna. Mi ricorda Viva Verdi, mi ricorda, no? Viva Vittorio Emanuele, re d'Italia. Esatto, questo è il sigillo di Salomone, sarebbe anche la stella di Davide, questo è il maschio e questa è la femmina. Ebbè, è così, è la stella di Davide. Questo è Noscete Y e conosci te stesso. È una cosa abbastanza particolare della tradizione, una vecchia tradizione latina. Questo è il Sator. Il Sator è un'iscrizione che c'è in un mare di posti, dal Duomo di Siena al Duomo di Campiglia, a Pompei l'antrovata, a Turin-Francia, a Chartres, a Torino, ad Ascoli. E non si sa il significato. Non si sa il significato, è molto importante. Palindromo, cioè si legge da destra e a sinistra. Polindromo. Ah, polindromo. Eccolo, questo forse si vede un po' meglio. Sator, Rotas, Arepò, Opera, Tenet, Opera, Arepò, Rotas e poi anche così, Sator e Rotas. E non si sa il significato. E comunque è una cosa molto importante che il Canapè avrà modo anche di organizzare dei speciali proprio sui simboli della massoneria a Firenze. Anche perché l'hanno trovato a Pompei, quindi è anche pre-romanica. Poi dopo è esplosa, questa iscrizione è esplosa nel Cinquecento con gli alchimisti. Quindi è di difficile traduzione, onestamente. Il Cagliostro ha qualche collegamento? Era un alchimista, massoneria egiziana. Che voleva radunare tutte le varie... che poi gli hanno fatto, diciamo, la sponda e lui l'hanno mandato a San Leo. Era più un alchimista. Era un alchimista. Poi bisogna vedere quale di due Cagliostro, perché c'erano due Cagliostro, insomma. Si sa, comunque quello che ha bruciato dopo non ce n'era più. Ecco, appunto, quindi non ce n'erano tutte e due, quindi probabilmente qualcosa coincideva, insomma. Questo è un altro quadro che ho fatto sul Nocce Te Ipsum, conosci te stesso. Ho messo la sedia, mi è piaciuto, come vuol dire, sedi e rifletti. Fantastico. Tanta gente avrebbe bisogno. Esatto. Tanta gente avrebbe bisogno... Sì, esatto. Queste sono le barche, perché ovviamente vivendo in Marem a San Vincenzo, ovviamente le barche sono, questo è un paesaggio marino... E abiti al mare, giusto? Sì, San Vincenzo. San Vincenzo. Proprio a Piombino e Cecina, vicino al Golfo di Baratti. E queste sono le rappresentazioni, praticamente, del Golfo di Baratti, che è uno dei più bei golfi del mondo. Tutte le barche... È fantastico. Questi sono gli Arpocrate, che non ti ho fatti una serie, perché Arpocrate è il dio del silenzio egizio, figlio di Iside Osiride, Orus. L'ho fatto in vari modi, anche solo il dito. Nella Galleria di Firenze c'è un quadro solo col dito, che tanto rappresenta sempre... Certo. Questo è un altro, e poi la grande mia passione sono le Vespe. Questa è una VBN, VBN è il numero di telaio. C'è una Vespa ante anni Sessanta. Un uomo con molte passioni. La Vespa, la Vespa non è una... L'Ambretto o Vespa? Vespa. La Vespa, Vespa. Questa è la 500, e questi sono degli astratti che ho fatto, che per me poi sono delle prove di colore, che io faccio... Ecco, i miei quadri dietro sono tutti timbrati, numerati, perché ho anche una numerazione di serie, che ci sono da dietro anche le vignette, ovviamente. Io qualsiasi cosa esce da casa mia e è timbrata e numerata. Mica poco, eh? No, 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 anche perché mi sembra giusto, anche perché io so in base al numero a chi ho dato, a chi ho venduto un quadro. Capite? Quindi, questi sono altri... Queste sono le prove. E le prove, per esempio, questo è il No7Y, le prove sono fatte in piccolo. Perché ovviamente queste qua sono 7-8 ore di lavoro, quelli di grande sono 15 ore. Quindi prima faccio la prova in piccolo, questo è un nudo di donna, prima non ho ancora il fatto in grande. Faccio la prova in piccolo e poi lo faccio in grande. Anche perché vendo anche questo. Ma guarda, anche le caricature, guarda. Questo mi è stato chiesto, ne ho fatte due, ovviamente, ne ho fatte due a scegliere. Per una loggia intestata a Totò. Perché Totò era faceva parte di grande. Sì, e lui è stato quello che ha fondato la... Voglio sempre dirlo in latino, Fulgor Artis. La loggia volgarmente chiamata loggia degli artisti. Dove c'era Enrico Simonetti, Ugo Pratt, Aldo Fabrizi, Marcello Marchesi. Quello che si è suicidato... Alighiero Noschese. Anche Alighiero Noschese. Alighiero Noschese, Arnoldo Foa, Febo Conti. C'erano tutti questi personaggi. Ecco, ora purtroppo abbiamo... Il tempo sta un po' scadendo. Allora, la cosa carina sarebbe anche parlare di altri personaggi storici italiani, toscani. Un giorno avremo modo, anzi spero che tu possa essere... Qua c'è Carducci. Carducci è stato... Fondò la loggia Rizzoli a Bologna, è stato uno dei fondatori dei tre poeti. Erano i tre poeti, Carducci, Pascoli e Olin di Guerrini. Importante anche sarebbe ricordare altri personaggi della storia. Che è Filippo Mazzei, per esempio. Quindi anche quello è un personaggio importante. Io, Sergio, ti ringrazio tanto della tua presenza, della tua partecipazione. È una presenza di valore. Grazie e ci vediamo sicuramente la prossima volta. Grazie. Alla prossima. Alla prossima.